Un'intensa attività, quella che ha visto impegnata la polizia in questi mesi in sinergia con le altre forze dell'ordine per incrementare la sicurezza percepita dei cittadini. Un bilancio di fine anno, quello tracciato dal questore Bruno Megale, caratterizzato da un decremento dei reati in genere, eccezione fatta per quelli predatori nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 novembre. 73 le persone tratte in arresto in flagranza di reato e 101 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria. 1676 denunciati stato di libertà. Sequestrati 57 kg di ashes, 3,66 kg di marijuana, 372 grammi di cocaina, 3 litri di metadone e 4 grammi di eroina. Alta l'attenzione anche sulla dispersione scolastica con 1.673 episodi segnalati e 58 casi di allontanamento di minori. Oltre 6.500 i fotosegnalamenti, tra cui molti migranti, un flusso costrante continuo che ha visto l'impegno di numerose risorse della polizia con oltre 2.969 cittadini stranieri giunti al Cara trasferiti in altre regioni e 1.300 trattenuti al CIE rimpatriati con accompagnamento coattivo. L'ultimo anno i dati dicono che c'è stato un oggettivo incremento delle presenze di immigrati. È un fenomeno epocale oggettivamente, quindi Caltanissetta pur non essendo una città costiera non è esente da questo tipo di fenomeno. Però devo anche dire che non c'è un aumento dell'incidenza criminale connessa alla presenza degli stranieri. Non posso, non ho dei segnali in tal senso. È chiaro che la popolazione deve anche abituarsi a un fenomeno che è completamente nuovo. Abbiamo fatto uno sforzo importante in questi ultimi mesi, abbiamo concordato a livello di comitato in prefettura e di riunione tecnica di coordinamento, una serie di interventi che vadano in qualche modo ad incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Quindi abbiamo anche per la situazione contingente internazionale, congettivamente un po' pericolosa, abbiamo aumentato tantissimo i controlli al centro, al centro storico e non solo al centro storico, tutti i luoghi di assembramento, tutti i luoghi di incontro, tutti i luoghi di raduno che potenzialmente costituiscono dei obiettivi per attività di tipo criminale. Si è lavorato molto sinergicamente con i vigili e con altre forze di polizia per andare in qualche modo a controllare i quartieri un po' più degradati del centro storico e a mio modo di vedere alcuni risultati cominciano già a vedersi. Due alle operazioni di polizia, Malleus e Redivivi, che hanno colpito duramente la criminalità organizzata di Gela legata al clan Rinzivillo, un fenomeno che vede una nuova manovalanza. Le nuove leve sono sempre più giovani, quindi le organizzazioni criminali si rigenerano, hanno una capacità incredibile di rigenerarsi nel territorio e vanno a reclutare o ad attirare persone sempre più giovani e questo in prospettiva è un fenomeno preoccupante.